Catturato l'autore dell'attentato della notte tra sabato e domenica a Gerusalemme nei pressi della tomba di Davide, l'uomo Amir Sidawi, 26 anni, residente a Gerusalemme Est, ha sparato contro i passeggeri di un autobus e poi contro altri passanti, ferendone otto, due dei quali in modo grave. Al termine di una caccia all'uomo, secondo la polizia israeliana, l'attentatore, identificato con le telecamere di sicurezza, si è reso alle forze dell'ordine, consegnando l'arma con cui ha sparato. L'autista dell'autobus racconta Ero alla guida, l'autobus era pieno di passeggeri, mi sono fermato alla stazione. In quel momento è iniziata la sparatoria. Ho visto due persone cadere fuori e altre due ferite dentro l'autobus, sanguinanti. L'attentato è avvenuto vicino al muro del pianto, il luogo più sacro di preghiera per gli ebrei. Grazie. Grazie. Grazie.